Cari amiche e cari amici, adesso vi leggerò un piccolo brano di un articolo stupendo che si chiama Il respiro del sangue. Questo articolo è stato scritto da un regista esperto in simboli che si chiama Massimo Selis e che ha un'intera playlist sul nuovo canale Decimo Toro Interviste. Vi invito a iscrivervi, vi lascio il link in descrizione e il link nel primo post in alto. Comunico a chi già è iscritto che già è cominciato il bogottaggio di youtube per cui nel giro di questi ultimi cinque giorni ben tre amici mi hanno comunicato che già erano iscritti, sono stati disiscritti da youtube, si sono dovuti riscrivere quindi controllate la vostra iscrizione. Detto questo passo subito a un piccolo brano di un articolo che commenterò per intero proprio con il suo autore Massimo Selis. Sentite che meraviglia. Il tempo che stiamo vivendo è la chiamata finale a cui nessun uomo si può sottrarre, nemmeno i cosiddetti credenti. Anzi, proprio loro questa voce grida con ancora più forza perché irrigiditi in una falsa religiosità si sludono di essere già salvi. Nella bufera che tutto distrugge un piccolo resto deve segnare la via per un rifiorimento spirituale che dall'albero rosso di sangue ci porti ad essere come l'albero verde che campeggiava al centro dell'Eden. Molto si può e si deve approfondire per allargare ancora la visione. Qui si è voluto dare il primo tratto di un pennello per un'urgenza che non poteva più essere taciuta. Lasciamo alla buona volontà dei lettori di meditare in silenzio certi che si potranno scoprire gemme insperate. Del resto, le parole non possono racchiudere pienamente le realtà infinite. Esse si completano solo con l'attraversamento del mistero nell'alternanza di albe e notti di soffio in soffio. Meravigliose, guardate, scrive benissimo questo Massimo Selis, questo ragazzo, e sono onorato di averlo proprio come ospite fisso su decimo toro 3. Vedete la conclusione dell'articolo? Dicono le parole non possono racchiudere pienamente le realtà infinite. Esse si completano solo con l'attraversamento del mistero nell'alternanza di albe e notti di soffio in soffio. E questa alternanza di albe e notti, come tutto l'articolo che è stupendo, e che spiegherà Massimo Selis in due video. Sarà una conversazione dove però gli porrò delle domande specifiche su questo articolo che è di una intensità unica. Ecco, qui parla della vita come alternanza di albe e di notti. Si sta attraversando una notte, una brutta notte, una notte da incubo con tutta questa storia dell'influenza mondiale. Bene, Massimo Selis ci dà delle indicazioni per non perdersi in questa notte, per non terrorizzarsi in questo buio. Delle indicazioni preziose che sono frutto di più di venti anni dei suoi studi, ma soprattutto più di venti anni della sua intensa preghiera. Dunque, oggi è 8 maggio 2021, adesso sono le nove e pubblicherò in mattinata questo video sul canale Decimo Toro Interviste. Per accedervi, ripeto, il link è in descrizione e subito sotto, nel primo post in alto. Vi ringrazio di cuore, ci sono stati 3.600 iscritti in meno di 40 giorni, quindi il canale teoricamente andrebbe bene se non fosse che YouTube disiscrivi, anche qui purtroppo. Mi ha sempre colpito con questo modo di fare, quindi vi prego di ricontrollare periodicamente la vostra iscrizione. Vi auguro di cuore un buon fine settimana, non fatevi terrorizzare da questi farabutti che ci governano. Sono arrivate notizie terribili in questi giorni, una che però è tutta da verificare di questo 18enne arrestato che ha ricevuto il TSO. C'è chi dice che non è del tutto vero quello che viene fatto a circolare, ci sono state da parte del sindaco delle dichiarazioni ambigue, non si sa. Però questa povera donna contro la quale si sono accaniti, gli è stato chiuso il negozio semplicemente perché voleva lavorare. Allora questi sono oggettivamente di tempi bui, sono oggettivamente di tempi anticristici e questa intervista con Massimo Selis veramente vi darà del respiro. Potrete respirare luce. Ecco, il titolo dell'articolo è Il respiro del sangue, ma Massimo vi farà veramente respirare luce, come l'ha fatta respirare a me durante questa stupenda intervista. vi aspetto più tardi e buon fine settimana a tutti. Marco Cosmo